Dico giusto una cosa però delle parole di Conte ieri, mi è piaciuta la frase quando lui dice la partita di ieri sera è stato un bagno di realtà per tanti. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e buona domenica, benvenuti in questo nuovo video, io sono Dario del Teldarion e oggi siamo qui riuniti per commentare Napoli-Modena, anzi per fare un po' un'analisi più pagelle della partita di ieri, dove siamo passati ai rigori e voglio sottolinearlo, ai rigori. Ragazzi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo subito nel vivo del video e cominciamo col vedere un po' le occasioni che ci sono state in partita. Allora vi dico la verità, non ci sono tutte queste grandi occasioni da andare a vedere, ovviamente perché comunque non ce ne sono state di così clamorose, siamo qui al ventesimo minuto, l'azione dove c'è il primo contropiede del Modena, facciamo però un piccolo passo indietro, come arriviamo a questa situazione? Allora il Napoli sta attaccando, Raspadori tenta di fare uno scambio con Di Lorenzo, la palla però viene intercettata da Cotali, Cotali poi passa la palla a Palumbo e in quella occasione c'è diciamo una riaggressione di Lobotka e Anghissà. La sfortuna ci viene incontro perché Palumbo fa un tunnel ad Anghissà, quindi la palla passa praticamente sotto le gambe di Anghissà, c'è Cotali che nel mentre ha fatto la sovrapposizione sulla fascia, Cotali poi vede il giocatore che vedete in questo frame al centro dell'area che sinceramente non ricordo il nome, tra parentesi il giocatore al centro dell'area era praticamente solo, questo perché? Perché i centrocampisti stavano rientrando e se posso essere sincero non ho visto, diciamo Lobotka non ha fatto questo recupero così deciso come lo ha fatto per esempio Di Lorenzo, però magari la giustificazione può essere che era agosto, le gambe sono ancora un po' pesanti, comunque si arriva a questa situazione. Innanzitutto secondo me Buongiorno qui è stato bravo perché ha praticamente chiuso tutta la zona diciamo del palo sinistro al giocatore del Modena, perché comunque vedete si trova qui in una zona dovunque dove il giocatore del Modena non può andare a chiudere sulla sinistra, quindi qua diciamo che il giocatore secondo me aveva soltanto un modo per andare a segnalo, ovvero metterla alta tipo qua, nel set di destra, che succede invece? Il giocatore va praticamente a fare un tiro abbastanza moscio, basso, rasoterra, che va tranquillamente nelle braccia di Meret, quindi qui diciamo che siamo stati graziati. Subito dopo quel contropiede abbiamo l'azione che diciamo porterà Politano a fare questo tiro in porta che poi verrà apparato da Ganyok. Qui voglio giusto sottolineare i movimenti che ci sono stati in questa azione, praticamente qui abbiamo Mazzocchi che fa questo movimento in questo lato, c'è questo giocatore del Modena, il 27, che segue Mazzocchi, quindi si va a creare questo spazio che verrà attaccato da Politano e quindi poi Politano farà il suo classico tiro col sinistro che poi verrà parato da Ganyok. Ecco, volevo giusto sottolineare il movimento di Mazzocchi che ha liberato lo spazio per Politano. Andriviamo poi al 32esimo dove c'è la traversa del Modena e qui il contropiede nasce ancora una volta da un'azione offensiva del Napoli. Diciamo che ieri sera nella fase di transizione negativa non siamo stati così efficaci. Abbiamo praticamente che il Napoli nell'area avversaria attacca sul lato sinistro con Spinazzola, l'azione poi si chiude con il tiro di Kvarazkelia che viene parato da Ganyok, palla a Palumbo, che diciamo che era abbastanza libero di fare un po' quello che voleva, fa questo lancio lungo che va a finire praticamente sulla nostra fascia destra dove c'era in quel momento Rachmani e la palla arriva a Ghilozzi, che era la punta del Modena. Che fa Ghilozzi? Riesce a vincere il duello fisico con Rachmani, riesce a proteggere palla, riesce a far salire la squadra, si prosegue nell'azione e si arriva a questo punto con Palumbo che col sinistro va a fare questo tiro di prima che poi andrà a finire sulla traversa. Allora qua non c'è questa grande, diciamo, aggressione su Palumbo. Vedete Anghissa qui che stava tornando, torna dietro con un pochino di ritardo, però come potete vedere Lobotka non fa questa grande aggressione sul Palumbo. Buongiorno tenta di fare qualcosa però in quel centesimo di secondo non è che poteva fare chissà che cosa. Comunque Palumbo ha tutto lo spazio, ha tutto il tempo di fare quel che vuole, si sistema la palla sul suo piede e va a fare questo tiro che poi andrà a finire sulla traversa. Quindi diciamo che qua poca aggressione sul giocatore da parte un po' di tutti e nel complesso un Napoli che non è riuscito diciamo a gestire bene questo contropiede avversario. Arriviamo poi al cinquantaquattresimo e qui ho messo, diciamo, ho messo questo frame per parlare un attimo di una cosa, ovvero dei tiri da fuori. Allora nel calcio di Conte sono previsti anche i tiri da fuori. Molto velocemente come arrivano questi tiri da fuori? Praticamente tramite i cutback, cioè praticamente abbiamo gli esterni di centrocampo che arrivano sul fondo, abbiamo poi in contemporanea gli attaccanti e diciamo i trequartisti in generale che si buttano in area, quindi cosa succede? I giocatori avversari vanno tutti ad ammassarsi verso la loro porta e quindi si va a creare questo spazio, questa distanza che c'è tra i difensori avversari e i centrocampisti nostri. Questo spazio permette poi ai centrocampisti di andare al tiro da fuori, ok? Il cutback non è altro che un passaggio dell'esterno verso, diciamo, un passaggio all'indietro verso il centrocampista che arriva e va poi al tiro da fuori. Ecco, io faccio sempre questo esempio, rivedetevi il gol di Rodri nella finale della Champions League Manchester City Inter, quella di due anni fa. Il gol di Rodri arriva da un cutback, ok? Quindi nel gioco di Conte sono contemplati questi cutback e questi tiri dalla distanza. Il problema è che non abbiamo quei giocatori capaci di tirare da fuori. Lobotka ieri sera comunque ci ha provato e in questa occasione il suo tiro va poco sopra la traversa, mentre al 93esimo il suo tiro, diciamo, viene parato da gagno, ok? Quindi Lobotka, diciamo che rispetto ad Anghissa, può provare il tiro da fuori. Diciamo ragazzi che se Lobotka riesce anche a sviluppare il tiro da fuori, allora veramente ci ritroviamo in casa, non dico un centrocampista totale, completo, però avere un giocatore che ti tira da fuori e che ti becca la porta può essere importante, perché poi ragazzi il tiro da fuori è difficile da parare. Può essere pure, diciamo, che un tiro da fuori innocuo viene calciato, c'è questa palla vagante in area che può essere sempre pericolosa, ok? E vedete comunque quello che vi ho detto prima, cioè gli attaccanti nostri si buttano dentro l'area e quindi si crea questo spazio, vedete, tra il Lobotka e gli altri giocatori del Modena, che permette appunto a Lobotka di calciare, però ripeto, servono i giocatori adatti a tirare da fuori. E io adesso dico una cosa, per esempio un Folo Ruscio, no? Un Folo Ruscio che a Verona ha dimostrato comunque di vedere la porta, che ha dimostrato di avere nelle gambe dei gol, se ci fosse è stato magari lui in questa situazione, avrebbe anche segnato e non saremmo andati ai rigori, sto andando per ipotesi, però il succo della questione è, se tu vuoi sfruttare il tiro da fuori, ti serve gente che sa tirare da fuori. Ora, a chissà, lo sappiamo, non c'ha il piede per andare al tiro, specialmente da fuori. La bot che invece ieri sera comunque ha dimostrato che può essere pericoloso col tiro da fuori. E quindi ragazzi, questo è quanto per, diciamo, le immagini, ripeto, non ci sono state tante occasioni pericolose da parte del Napoli, quindi detto questo spostiamoci su SofaScore e andiamo a vedere un po' di dati. Allora, vediamo innanzitutto l'attack momentum sulla sinistra, ed è un attack momentum abbastanza chiaro. Il Napoli dal primo fino al novantesimo minuto, diciamo, ha avuto il controllo della partita. Il Modena, giusto, quelle due tacchette nel primo e nel secondo tempo, nel primo tempo sicuramente quella tacchetta si riferisce ai due contropiedi, però come abbiamo detto anche nel post partita di ieri, se ve lo siete perso il post partita lo trovate nelle schede, alla fine dei fatti le occasioni più biotte le ha avuto il Modena. Questo attack momentum potrebbe essere un po' fuorviante, perché sì, il Napoli ha comandato il gioco, ha dominato in lungo il lago la partita, però a livello di occasioni è stato più pericoloso il Modena. Abbiamo poi qua sotto i vari dati, andiamo a vedere allora, possesso palla, 74% ed era abbastanza prevedibile avere un possesso palla così alto. 28 tiri con 6 parate di Gagno, il portiere del Modena. 6 calci d'angolo, calci d'angolo che non abbiamo minimamente sfruttato. 10 falli fatti, con un cartellino giallo che è quello di Anghissa, e voglio tra parentesi ricordare che a Napoli non sono state fischiate 3 punizioni dal limite ieri sera. 3. Qui abbiamo i tiri in porta che sono 6 su 28, quindi bene o male un poco più del 25% dei tiri sono andati in porta, però ripeto, 0 di questi tiri sono stati pericolosi. Forse è giusto il tiro da fuori Lobotka al 93. Ecco qui vedete la statistica del tiro da fuori aria, questo dato va a confermare che il Napoli ieri ha tentato spesso il tiro da fuori, ben 16 volte, però abbiamo visto che soltanto il tiro di Lobotka al 93 poteva essere un minimo pericoloso. Abbiamo poi le statistiche offensive, il Napoli fa 43 tocchi nell'area di rigore avversaria, mentre il Modena ne fa appena 2. Poi abbiamo i passaggi che abbiamo visto prima, precisione nell'ultimo terzo 88%, sotto vediamo anche le palle lunghe che comunque non sono state poche, 29 però di queste 29, 24 sono state precise, quindi l'83% è andato a buon fine, sui cross come sempre malissimo, soltanto il 30% è andato a buon fine, è una cosa che io non ho capito sinceramente. Se tu hai Raspadori punta, perché fai cross alti? Cioè ragazzi ieri sera abbiamo fatto tanti cross alti, ma quando c'hai Raspadori dentro l'area non puoi andare col cross alto secondo me, quindi non l'ho capita sta cosa. Il Napoli perde 8 palle contro le 7 del Modena, vinciamo il 46% dei contrasti a terra, il 56% dei due aerei e a livello di dribbling 8 fatti bene su 13. Voglio segnalare il dato dei recuperi, 60, al 10 agosto di sera con le gambe ancora pesanti secondo me è un dato da sottolineare e poi sulle parate c'è poco da dire, ha parato decisamente di più Gagno che ne ha fatti 6. Vediamo adesso le posizioni medie che sono queste qui ragazzi. Allora possiamo vedere un po' di cose interessanti. Innanzitutto dei tre difensori centrali di Lorenzo è quello che va letteralmente a fare il centrocampista aggiunto. Vedete qui il numero 22 di Lorenzo è stato il difensore che dei tre si è staccato di più per andare a supportare la manovra. Buongiorno invece a metà diciamo, non si è spinto tantissimo in avanti, mentre Rachmani era il difensore che rimaneva dietro ed è logico questa cosa. Anche perché ragazzi Rachmani non è un difensore che fa della velocità il suo punto di forza, quindi ci state nello dietro a copertura. Poi vediamo lo bot che ha chissà che si trovano quasi diciamo sulla stessa linea. Per quanto riguarda esterni trequartisti e punta è tutto logico. Mazzocchi che sta sulla fascia destra, Spinazzola sulla fascia sinistra, che va a Schelia e Politano nei corridoi diciamo dei mezzi spazi e Raspadori al centro dell'area. Però, come ho detto anche nel post partita di ieri, io ho visto poco attacco all'area di rigore. Cioè se ne andiamo a vedere le hit map, no, Raspadori non è che abbia riempito così tanto l'area. Vedete non c'è tantissima zona di calore dentro l'area di rigore. Politano un pochino qui diciamo nella zona destra dell'area di rigore. Kvara a Schelia si è buttato dentro l'area. Spinazzola non tantissima, è rimasto più a ridosso. Mazzocchi si è buttato dentro. Infatti ci sono state un paio di azioni dove c'era Spinazzola che buttava questa palla dentro l'area di rigore per Mazzocchi che si era inserito. Il problema di Mazzocchi è che non c'ha qualità, perché comunque Mazzocchi un paio di occasioni le ha avute. Però il piede è quel che è. Con i cambi la situazione è questa qui. Abbiamo l'11 ovvero che Dira, non so perché sta qui, forse perché ha giocato troppo poco. Abbiamo poi Simeone, ma abbastanza logica la sua hit map. Gong che si mette sul lato destro. E attenzione ragazzi, quando entra in Gong c'è un cambio di modulo. E il cambio di modulo ragazzi si vede bene soprattutto quando entra anche Olivera. Diciamo che i cambi Olivera e in Gong hanno portato al cambio di modulo. 4-2-4, quindi Olivera e Di Lorenzo esterni, terzini basi scusate. Gong esterno a destra, a sinistra Kvaratschelia. E davanti Simeone con Politano inizialmente, poi entra Che Dira al posto di Politano. E come ho detto anche ieri nel post partita, io il cambio Che Dira a Politano l'ho capito. Nel senso che, sì, vuoi mettere Che Dira perché vuoi mettere un attaccante in più e provare a vincere nei 90 minuti. Va bene, ci può stare. Io però non avrei tolto Politano. Perché ragazzi, Politano comunque gli possiamo dire tante cose. Però è uno dei pochi rigoristi decenti che abbiamo. E a 4 minuti dalla fine, secondo me, io avrei tenuto conto del pericolo Rigori. E l'avrei tenuto in campo come rigorista. Poi sfortuna vuole che Che Dira sbaglia il rigore. Però vabbè, quello non lo puoi prevedere. Io però lo avrei tenuto in campo Politano per la questione Rigori. Però ripeto, ci sta che lo metti Che Dira per provarlo a vincere nei 90 minuti. Però non l'avrei messo al posto di Politano, quello dico. Vediamo velocemente le statistiche dei giocatori. Lobotka è il calciatore che effettua più tocchi. 116 subito dopo Di Lorenzo e poi Anghissà. Raspadori, come potete vedere, poco, diciamo, sfruttato. 25 tocchi. A livello di passaggi riusciti, Lobotka è quello che ha rapporto tocchi fatti e passaggi riusciti. Diciamo, c'è la percentuale migliore. Forse Raspadori ha sbagliato qualche passaggio di troppo. Però vabbè, diciamo che nella media non ci sono stati tutti questi errori. A livello di passaggi chiave, Chvarazchelia e Spinazzola sono quelli che creano più pericoli. Quindi la catena di sinistra ieri ha funzionato bene. Mazzocchi, diciamo che è stato appunto l'esterno destro che andava a buttarsi in area. Quindi era quello che andava a concludere l'azione. Quindi ci troviamo che Spinazzola fa più passaggi chiave rispetto a Mazzocchi. A livello di cross, malissimo. Male Politano, 7 fatti, soltanto 1. Andato a buon fine. Bene Kvara, 3 su 5 fatti bene. Mazzocchi, 0 proprio. 0 su 5 fatti bene. Bene Spinazzola, bene Ngong. Per quanto riguarda le statistiche difensive. Bene Kvara, 8 su 12. Anglissane ha vinti la metà. Rachmani, bravo, ne ha 27 su 8. Politano male, 1 su 6. Ne ha vinto soltanto 1. Di 1 contro 1. Idem Simeone. A livello invece di contrasti a terra vinti. Bene Kvara. Kvara si dimostra, come sempre, un giocatore che la fa la sua fase difensiva. Lo Botka malino, 2 su 6. Politano anche lui, 1 su 5. Sui due aerei bene Rachmani, bene Mazzocchi, bene Buongiorno, bene Di Lorenzo. E a livello di possesso perso è Politano il calciatore che ha perso più palloni, 17. E ricordiamoci, Politano non era tra i giocatori con più tocchi fatti. Lo Botka te lo puoi aspettare perché lo Botka è il giocatore che fa più tocchi e quindi è quello che è più, diciamo, esposto a perdere palloni. A livello di falli, Simeone si dimostra comunque un attaccante che è abbastanza falloso. Ce l'ha questo vizietto di fare dei falli. E poi anche sa che ne fa due e si prende anche il cartellino giallo. Comunque ragazzi, direi che possiamo fermarci qui riguardo alle statistiche. Andiamo a vedere velocemente le pagelle. Allora ragazzi, ovviamente voti non proprio altissimi. Per forza di cose io do la palma di migliore in campo a Meret perché comunque ha parato due rigori. Nei 90 minuti sarebbe da senza voto, nei rigori poi ne para due. Quindi il 7 se lo prende è per me anche il migliore in campo. Per quanto riguarda la linea difensiva, do un 6 a tutti e tre. Si sono comportati abbastanza bene. Non sono stati sollecitati tantissimo in fase difensiva. Tra l'altro ragazzi Di Lorenzo ha tirato un rigore. Bello pericoloso, bello coraggioso. Non gli avrei dato un centesimo a Di Lorenzo su quel rigore. A centrocampo do 6 a Spinazzola. Il suo apporto in fase offensiva lo ha dato. Ha dato anche una mano in fase difensiva. Però sappiamo bene che la fase difensiva non è proprio il suo punto di forza. Lo Bodka 6,5 perché c'è stato questo plus dei tiri dalla distanza. Però ripeto, in mediana se vuoi sfruttare i tiri da fuori serve un giocatore che sa tirare dalla distanza. Lo Bodka lo potrebbe fare, però per esempio al posto di Anghissa serve uno che sa tirare da fuori. Perché ragazzi Anghissa in questo schema secondo me non è proprio utilissimo. Mazzocchi ragazzi per me è il peggiore in campo 5 perché proprio si vede la poca qualità che ha. Parliamo del titolare della squadra che l'anno scorso è retrocessa malissimo. Ha avuto anche un paio di occasioni dove a causa della poca qualità che ha le ha sfruttate male. Ecco quindi il 5 se lo prende. 5,5 Politano perché non mi è piaciuto in fase di rifinitura. Sui calci d'angolo l'ha sempre buttata in bocca al portiere. Kvara Schella 6,5 è sempre quello che crea i pericoli. Diciamo che su Kvara si ripetono sempre le stesse cose. Però quello va detto. Calcia anche il rigore. Raspadori 5,5. E Raspadori ragazzi gioca fuori ruolo. Un conto è fare il centro avanti con Spalletti. Un conto è fare il centro avanti con Conte. Poco servito, poco considerato. Abbiamo visto nei tocchi è stato uno dei peggiori a livello di tocchi. È stato anche colui che ha innescato il primo contropiede del Modena. Per quanto riguarda i subentrati do il 6 a Simeone e Ngonge perché hanno cacciato il rigore. Non hanno fatto tantissimo nei pochi minuti che hanno giocato nel finale. che Dira 5,5 perché il rigore lo ha sbagliato. E a Olivera do il 6 perché comunque non mi è dispiaciuto. E a Conte do il 6 perché comunque a Conte non possiamo dirgli niente in questo momento. C'ha una squadra che non è congeniale al suo tipo di calcio. Io posso giusto dire appunto quel cambio politano che Dira. Però per quanto riguarda il resto ragazzi Conte oggi non possiamo dirgli niente. Dico giusto una cosa delle parole di Conte che ha detto nel post partita perché voglio farci un video dedicato domani alle parole di Conte nel post partita e anche le parole di Manu nel pre partita visto che ora la partita prossima è domenica. Ci abbiamo tutta la settimana possiamo andare con calma. Dico giusto una cosa però delle parole di Conte ieri. Mi è piaciuta la frase quando lui dice la partita di ieri sera è stato un bagno di realtà per tanti. Ed è verissimo ragazzi perché qua troppi stanno facendo voli pindarici, troppi parlano di Scudetto. Non parlo solo di tifosi ma anche di addetti ai lavori. Quindi la partita di ieri è un bagno di realtà perché la squadra che abbiamo non è assolutamente adatta per lottare per lo Scudetto. Quindi ragazzi questo è quanto per la partita di ieri. Come ho detto prima domani analizzeremo le parole di Conte nel post partita e anche le parole di Manu. Parole che secondo me sono importanti e che vanno e che diciamo a cui va dedicato un video a parte. Detto questo ragazzi io vi aspetto nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Io vi auguro una buona domenica. Forza Napoli sempre e noi ci vediamo domani. Ciao! Ciao!